Sembrano umani. A me sembrano burattini. Un istante. Lei è americano, vero? Sì, signore. L'immaginavo. Ho vissuto molti anni nel suo paese. Mi spiace che ci si incontri in queste circostanze. Come vanno le cose qui? Il cibo? Volete una risposta sincera? Sì, naturalmente. Il mangiare è schifoso. Veniamo trattate come se fossimo degli animali. Nel boccaporto? Subiamo torture inaudite. La sorvegliante capo non è altro che un mostro, una sadica. Sì, 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 certo, certo. Buongiorno. Passiamo agli edifici.